La pazza Ostiamare continua a volare, a cadere preda della formazione di Greco. Stavolta sono i lupi dell'Avezzano, giunti a Lancomarsi in formazione rimaneggiata, ma autori comunque di un'ottima partita. Il finale di 2-0 potrebbe lasciare intendere un'Avezzano rinunciataria. Niente di più sbagliato, perché i Biancoverdi hanno offerto un'ottima prestazione nel primo tempo. Ci hanno provato nella ripresa, ma non trovano davanti a sé che ha fatto meglio. L'Ostiamare si conferma così, squadra cinica e organizzata, anche quando le idee sembrano mancare. Una punizione e un rigore ed un secondo posto blindato con la forza dell'astuzia e della grinta. A partire meglio, infatti, sono gli ospiti. Il primo quarto d'ora è totalmente a marca Biancoverde. Barrago sfoggia subito una gran parata su Bittaglie salvando i suoi al dodicesimo, mentre il sinistro di Marolda non crea particolari problemi al quattordicesimo. Passato un brutto quarto d'ora, l'Ostiamare ritrova coraggio, a cui abbinare concretezza e cinismo. Al venticinquesimo una bella palla tagliata di Colantoni trova il tacco di Dastolfo. Tocco elegante e palla all'angolino dove Lewandowski non può arrivare, 1-0. Il gol dà coraggio ai Viola, che al ventottesimo ci prova anche Piroli su punizione, senza fortuna. Otto minuti dopo risponde l'interessante Deramo, sempre da fermo. Il classe 99 non trova il giro giusto. Sul finire di tempo, bordata di Sassarini, che però finisce alta. L'Ostiamare chiude in avanti, tessendo trame con Bellardelli e Attili. Roberti, oggi subito titolare, non incide. Nella ripresa le squadre corrono, ma di emozioni se ne vedono poche. Occorre attendere il diciannovesimo. Marolda schiaccia di testa, ma spedisce alto il cross dalla destra. Non ha fortuna neanche Deramo, oggi fra i migliori, che si giova del lavoro di Serrago, ma non trova l'angolo per battere Barrago. L'Ostiamare incassa come il migliore dei pugili. Rialza la testa senza cadere e trova il gol della tranquillità, a 10 dal termine. Vano entra in partita e trova subito lo spunto. Tariuk cade nel tranello e la terra. Damato è irremovibile e dal dischetto lo stesso gigante trasforma per il 2-0 finale. Nel finale, altri rimpianti per l'Avezzano, che coglie un palo con l'inesoribile Deramo. Alla fine, il punteggio segna 2-0 per l'Ostiamare, che stacca il gruppetto e si porta al secondo posto, lì dove osano le acuile, alle spalle del Rieti e insieme all'Aquila. Alfonso Grego, la natura dell'Ostiamare. Pazzo Ostiamare, Ostiamare che continua a stupire. Una bella vittoria in casa contro l'Avezzano. Oggi di certo il cinismo non vi è mancato. C'è solo da elogiare questi ragazzi, che stanno facendo qualcosa di straordinario. Oggi eravamo in condizioni non ottimali, perché eravamo 6-7 assenti tra infortuni, febbre. E se siamo lì perché c'è dietro c'è qualcosa, non è che ci regala niente nessuno. Perché a questo punto, voglio dire, sembra che... Qui sono ragazzi che dal 25 luglio si allenano tutti i giorni in un'intensità incredibile. E questo è uno spirito che ci portiamo avanti, è una delle nostre caratteristiche. È merito di questi ragazzi che sono straordinari. Un'ultima battuta proprio su Roberti. Roberti è più un attaccante d'area di rigore. Oggi ha fatto un po' il vano. Tante sportelle, tante spizzate. Potrebbero coesistere i due insieme? Quelli bravi bisogna farli giocare. Quindi il problema dell'allenatore è poi trovare la sistemazione giusta. Però quelli bravi devono giocare e vediamo, vediamo. C'è mancato questo guizzo, come spesso ci succede. Però credo che la squadra abbia espresso un ottimo calcio che veramente, sicuramente meritavamo qualcosa in più. Poi alla fine chi vince ha sempre ragione. Non ci attacchiamo, non l'abbiamo mai fatto neanche all'essenza. Oggi erano numerose, fra infortuni, febbre, squalifiche. Quelli che li hanno sostituiti sono stati bravissimi. Mi sembrava di... Io personalmente ho visto una grande squadra senza nulla togliere a quelli, insomma, diciamo anziani fra virgolette perché poi abbiamo giocatori di 25, 24, 23 anni. Giocatori importanti, under. Stiamo puntando a fare un campionato anche di valorizzazione.